Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È tornato ad allenarsi il Pescara in vista della ripresa del campionato prevista per il 7 gennaio all'Adriatico contro il Latina con inizio alle 14.30. Un Pescara che con il calcio mercato invernale che ripartirà ufficialmente da lunedì potrebbe, entro la fine del mese, data di chiusura del mercato, presentare anche diverse novità per superare il momento di crisi che ha caratterizzato l'ultimo periodo del torneo con ben cinque sconfitte nelle ultime sei partite. Una media da piena retrocessione per una squadra che solo un mese e mezzo fa sembrava sul punto di poter agguantare addirittura la capolista Catanzaro in quella che è stata poi l'inizio della crisi con una sconfitta che ha sancito invece la fine dei sogni di gloria della squadra adriatica. Tra i casi che hanno turbato un periodo tra i peggiori della storia del Pescara per risultati ottenuti anche quello dell'Italo-Argentino Facundo Lescano, prima bomber in contrastato e poi Panchinaro Deluso che con il suo sfogo sulle scelte tecniche ha probabilmente voluto far capire che a Pescara rimarrà solo se titolare indiscusso. Con diverse squadre di B che lo cercano, il Pescara cerca già un possibile sostituto sul mercato che potrebbe essere Samuele Spalluto tra i primi obiettivi di Delicarri. Non ci sarà invece la ricerca di un altro portiere perché l'infortunio di Plizzari sembrerebbe meno grave del previsto e sommariva da garanzia tra i pali.